Il 62,5% degli italiani ha paura per il proprio futuro e per il proprio benessere. Un sentimento che pervade in modo netto e trasversale tutte le categorie politiche e sociali e che è figlio dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, trasformatasi nel corso dei mesi in emergenza economica. La paura da mars ad oggi non si è attenuata e i cittadini esprimono il loro timore paventando la possibilità che il peggio debba ancora arrivare, presumibilmente dopo l'estate. E quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research in esclusiva per l'agenzia di stampa Italpress. Il 52,2% degli italiani teme che la situazione economica precipiterà in autunno in gravi e grandi crisi occupazionali, mentre il 36,6% immagina una lenta ripresa del nostro sistema economico pur tra problemi e fattori di criticità. Solo il 4,1% del campione manifesta ottimismo intravedendo una piena ripresa delle nostre attività. Nel 2019 il prodotto interno lordo, secondo quanto rileva l'Istat, ha segnato a livello nazionale un aumento pari allo 0,3%. Le stime preliminari indicano che la crescita si è distribuita in maniera abbastanza omogenea sul territorio, anche se si conferma una diversa velocità tra il nord e il sud del paese. Il nord ha mostrato una performance superiore alla media nazionale. Il nord-est registra una crescita dello 0,5%, mentre il nord-ovest lo segue da vicino con 0,4%. Le regioni del centro e del mezzogiorno hanno fatto invece registrare un aumento del PIL lievemente inferiore alla media nazionale, con una crescita che in entrambe le aree si è fermata al più 0,2%. Parte il rilancio della Banca Popolare di Bari. L'Assemblea degli azionisti ha deliberato all'unanimità la trasformazione in società per azioni, aprendo la strada al piano di salvataggio da 1,6 miliardi, che vedrà la partecipazione del Fondo Interbancario di Garanzia e del Medio Credito Centrale. Soddisfatto è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha sottolineato come l'ampia partecipazione all'Assemblea e il larghissimo consenso ricevuto diano conto del senso di responsabilità degli azionisti. In piena emergenza liquidità, quando molte piccole imprese hanno dovuto attendere mesi per ottenere un prestito, grazie al progetto ISI 100 imprenditori siciliani hanno potuto ricevere liquidità in soli 10 giorni. La velocità di erogare è stata la carta vincente dell'esperimento avviato a dicembre in Sicilia da Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane per la clientela privata, guidata dalla di Paolo Fiorentino. Per questo strumento, insieme all'apertura di un ufficio di rappresentanza a Palermo, unica filiale fisica in Italia, Banca Progetto ha stanziato un budget iniziale tramite l'intermediario finanziario Fidimed, in buona parte assorbito durante e dopo il periodo di lockdown da circa 100 PMI siciliane che hanno ottenuto finanziamenti rapidi da 25 a 150 mila euro. Il successo dell'iniziativa spinge ora Banca Progetto a raddoppiare l'impegno, aumentando il limite di progetto ISI fino a 300 mila euro ad azienda ed estendendo l'ambito di operatività a tutto il paese attraverso una rete di partner. Obiettivo erogare dai 60 ai 70 milioni di euro nel corso dell'anno.